Sono 45 anni e sono andato a me una volta al bar qui a Dragona. Al ristorante non vado, né crescio comunione, né funerali, matrimonio, non vado. Appunto perché mi sono dedicato esclusivamente alla distruzione professionale. Mi sento un uomo felice, ma una felicità che è impossibile descriverla. La gioia di vivere, anche perché è una coincidione della vita che mi sento veramente fortunato. Perché se guardiamo nel contesto della nostra esistenza, nel contesto dell'universo, ci troviamo in miliardi di casi e il migliore periodo più bello è adesso, è su questa terra. Perché se guardiamo tutti i grelli di sabbia al mondo, altrettanto ce ne sono di stelle. E di queste stelle sono pochissimi esemplari che hanno avuto una vita come la terra. Quindi c'è una fortuna di vivere su questa terra. E poi da 450 milioni di anni, dove è nata la vita, il periodo più bello è quando l'uomo ha preso coscienza, non è più animale, ha cominciato a prendere coscienza di essere uomo, chiedersi tanti perché, e quindi è due milioni di anni, quindi è abbastanza vicente, da 450 milioni a due milioni di anni. Poi in questi due milioni di anni c'è stata l'evoluzione di questo uomo primitivo, e quindi il periodo più bello di questo uomo è adesso, perché abbiamo preso coscienza pienamente, abbiamo potuto studiare, quindi non c'è il problema della sopravvivenza, vi dicendo. E poi in tutto il mondo, il paese più bello del mondo è l'Italia, in tutti i punti di vista, ed in Italia la città più bella del mondo è Roma, e avere la possibilità di averlo studiato, anche quella è una fortuna. E poi ecco, avere la fortuna di fare un lavoro che mi aggrada moltissimo, che mi sento felice, quindi che vuoi più dalla vita. Proprio il massimo per me, ho avuto troppo, troppo fortuna, e quindi che vuoi pretendere più dalla vita. La mia esistenza in questo contesto, e così anche voi dovete guardare la vostra esistenza nel contesto storico dell'esistenza umana, e allora vi rendete conto che siete di fortunati, vero e proprio. Ma delle cose su miliardi di casi, combinazione, ecco, siamo qui coscienti di quello che si fa, possiamo apprezzare tutte queste cose belle, e lei mi diceva, e quelli invece poveracci che erano nati 50 anni fa, un milione di anni fa, non potevano apprezzare tutte queste cose, e c'era il problema della sopravvivenza, dove sta a correre la mattina per la sera per mangiare e sopravvivere, e quando morivano di fame, oppure di malattie, e oggi ma che scherziamo!